Assessore Giuseppe Speranza, partiranno a breve degli interventi alla rete idrica in via Montedoro, in particolare nell'ultimo tratto della strada. È una battaglia che il sottoscritto entra preso prima da Comune Cittadino, poi da coordinatore del Comitato di Quartiere Torrenord e non ultimo da Assessore ai Servizi Tecnologici. Devo dire che è stato uno dei primi obiettivi che mi ero posto come ho assunto alla delega ai Servizi Tecnologici, perché era una problematica che conoscevo molto bene e onestamente la sentivo mia. Finalmente devo dire Montedoro da qui a qualche mese potrà beneficiare del servizio di fornitura di servizio idrico, perché tante famiglie, una famiglia media di Montedoro spende generalmente dai 5 ai 6 mila euro all'anno per comprare l'acqua di Autobotti, a cui va aggiunta poi l'acqua per bere. Quindi è una spesa immane. Perché ci è voluto tanto tempo per raggiungere questo risultato? Ci è voluto tanto tempo perché evidentemente nessuno si è interessato con accanimento come mi sono interessato io. E quando dico io dico l'amministrazione Palomba, perché ringrazio anche il sindaco Palomba che ci ha tenuto ugualmente al sottoscritto affinché questo disservizio terminasse. Perché effettivamente l'acqua è un diritto di tutti i cittadini e non lo si può negare. Quindi noi stiamo onorando e stiamo adempiando a un diritto dei cittadini. Oltre alla questione della rete idrica, i cittadini dell'ultimo tratto di via Montedoro si sono sentiti sempre un po' penalizzati rispetto all'altra parte della strada. Tutte le zone periferiche, mi riferisco a Cappella Bianchina, zona alta, Cappella Nuova, soffrono un po' di questa disattenzione che spesso ci viene imbutata. Ma la disattenzione non è, voglio dire, voluta. La disattenzione è proprio perché essendo geograficamente nelle zone più periferiche, taluni siti diventano proprio meta di scarica, meta di atti vandalici, meta di situazioni poco edificanti e poco piacevoli. L'appello che facciamo a tutti i cittadini è quello di circostanziare le segnalazioni. Una semplice foto serve a ben poco. Se riuscite a inviarci un filmato, addirittura la persona che sta compiendo il misfatto, tanto meglio. Mi dispiace purtroppo ragionare in termini di repressione, ma in alcuni casi è necessario, anche per dare l'esempio e per cercare di migliorare, di fare un salto di qualità a cui ognuno di noi tiene, per noi e per la città.